Bentrovati amici di Padre Pio TV. Torniamo in questa serata speciale con un argomento sicuramente di strettissima attualità, che ci consente attraverso un'immagine, una bella immagine, quella di Maria e Giuseppe in viaggio verso Betelemme, ci consente appunto di parlare di migrazioni. In realtà è proprio questo il tema dal quale vogliamo partire, prendendo spunto appunto da quella che è stata una necessità imposta per certi aspetti dal censimento che ha costretto appunto Maria e Giuseppe a muoversi in questo ambito geografico della Palestina. Ma vogliamo entrare nello specifico di tutto ciò con un esperto del settore. Si tratta del professor Sergio Moscone, che abbiamo il piacere di ospitare nuovamente a Padre Pio TV, geografo, docente appunto della materia anche in ambito scolastico. Bentrovato professore. Grazie. Grazie a tutti e allora buon Natale insomma, buona vigilia di Natale. Siamo appunto pronti per vivere questo momento che però ha questo preludio, questo viaggio appunto di Maria e Giuseppe verso Betelemme. Un viaggio che è stato anche caratterizzato da molte porte chiuse e questo appunto ci ricorda ancora una volta tantissimi temi d'attualità. Ma parliamo delle migrazioni appunto. Come possiamo spiegare questo movimento nel caso di Maria e Giuseppe causato appunto dalla volontà di partecipare a questo censimento? Ma quali sono i motivi che spingono tante persone a muoversi? Le migrazioni sono una forma di mobilità spaziale della popolazione e la storia e la geografia ci insegnano che la popolazione si è sempre spostata, insomma ci sono sempre state nel corso della storia dei movimenti, è inutile se no il nostro globo non sarebbe tutto abitato, ormai le zone anecumeniche ormai sono ridotte al mimo, quindi la presenza umana c'è praticamente dappertutto. Forme di mobilità le viviamo noi ad esempio tutti i giorni, pensiamo a noi pendolari che tutti i giorni dobbiamo prendere treno o pullman e ci facciamo 20 o 30 minuti per spostarci e ritornare a casa poi in serate ed è una mobilità spaziale della popolazione che i geografi studiano. Ma in modo particolare vediamo le migrazioni che sono tuttora di attualità, però se prendiamo la storia le migrazioni ci sono sempre state. Infatti vediamo qui Maria e Giuseppe in cammino non per loro volontà in questo caso ma per una scelta politica, hanno dovuto spostarsi per un censimento come ci ricorda la storia, ci ricordano i Vangeli. È interessante anche vedere che arrivano ma le porte sono, trovare ospitalità è difficile, insomma l'ospitalità è un dono e l'ospitalità bisogna anche avere il cuore per metterla in atto, per praticarla e anche allora se ci pensiamo 2000 anni fa una coppia giovane addirittura con una donna incinta trova porte chiuse. Se ci pensiamo ci sembra assurdo ma è andata anche così nella vita di Maria e Giuseppe e il bambino che doveva nascere da lì a poco. Ma se ci pensiamo poco dopo come ci raccontano i Vangeli della fuga in Egitto, altra migrazione. Spinta da altra motivazione. Certo, anche qua una persecuzione, quindi noi la consideriamo una migrazione forzata, cioè non scelta ma forzata. Anche adesso se ci pensiamo quante migrazioni forzate ci sono per guerre, pensiamo solo alla guerra in Siria di cui non si vede la fine, per persecuzioni, per genocidi. Non ultime però anche le migrazioni vengono chiamate ambientali, cambiamenti climatici, se continuano in questo modo provocheranno milioni di migranti forzati dovute a cause ambientali. Potrebbe essere in Africa la desertificazione, potrebbe essere il ritiro delle coste per l'aumento della quota dei mari e degli oceani. Insomma dobbiamo anche prepararci purtroppo a queste forme di migrazioni che la gente non sceglie ma sarà obbligata a fare. Penso ad esempio come geografo al problema delle piccole isole dell'Oceano Pacifico, dell'Oceania, rischiano di essere sommerse, spariranno paesi e questa gente dove andrà? Avrà bisogno di trovare altre patrie e altri luoghi. La sua passione per la geografia da dove nasce? Ma da bambino insomma la geografia, secondo me la passione si è già da bambino quando ti interroghi dei luoghi dove sono, o dove vorresti andare, o i viaggi che vorresti fare, perché poi la geografia è la scienza dei luoghi, insomma la scienza dello spazio, ubicare un luogo, sapere dove è, ma poi di questi luoghi studiarne le relazioni spaziali, perché ogni luogo non è un'isola di per sé, per dire non è isolato, ma ogni luogo poi ha delle relazioni con gli altri luoghi e vai a studiare anche queste relazioni, insomma è una passione che poi ho coltivato ovviamente all'università e via discorrendo e poi a scuola con gli studenti, praticamente tutti i giorni, e la passione non muore perché è continuamente attuale di per sé come disciplina, è inutile negarlo, ma una disciplina che è sempre attuale è proprio la geografia. E infatti ne parlavamo anche in una precedente occasione, purtroppo questa materia, nonostante questa grandissima attualità, questa importanza dalla quale avvertiamo la necessità di approfondimento ai nostri giorni, è stata messa in un angolo? E purtroppo non è ancora, è stata messa in un angolo e nessuno pensa a rimetterla insomma un po' al centro degli studi e quant'altro, perché se non studiamo prima i nostri luoghi è inutile poi andare a studiare o cercare di capire ciò che succede da un'altra parte. Io ad esempio con i miei studenti parto sempre dal locale, io abito nelle Langhe, quindi di Alba, la zona delle Langhe, eccetera, parto sempre di lì perché dico guardate che noi la pagnotta o almeno la farina per fare il pane la prendiamo di lì, dai nostri luoghi, poi magari quello che facciamo, il nostro barolo, il nostro vino, la nostra gastronomia magari la esportiamo in tutto il mondo, però dobbiamo partire dal nostro luogo, se non conosciamo il nostro luogo è inutile poi parlare di aree o di zone più ampie, quindi dal locale al globale e poi con la globalizzazione in atto altro problema assieme a quelle delle migrazioni, eccetera, più di attualità di così, insomma. Restando su questi temi viene alla mente un elemento, un simbolo che è diventato tale anche nel dibattito politico, ma non solo, i confini, dal punto di vista di un geografo dovrebbero essere fondamentali. Beh certo, l'Imes, se ricorda l'Imes romano, i confini dell'impero romano, eccetera, però parlare di confini adesso è difficile, è un contesto di globalizzazione, non saprei come più identificarli, c'è questa paura del confine, questa chiusura dei confini eppure la gente si sposta allo stesso, insomma se la gente deve scappare o andare via per qualcosa non c'è confine che tenga, ma lo insegna la storia, l'impero romano a un certo punto cade, lo sappiamo benissimo, per le pressioni dei confini esterni, un impero enorme che non riesce più comunque ad avere una sua identità da bloccare o da, come si può dire, insistere sul proprio l'Imes, ma è così, di per sé è difficile poi un contesto di globalizzazione, pensiamo solo le scelte, mi vengono in mente i famosi dazi doganali del Presidente degli Stati Uniti, Trump, c'è una scelta che può sembrare interna, in realtà le ripercussioni che ha a livello geografico, geoeconomico e quant'altro, e anche sociale poi, perché poi se mettiamo in crisi il sistema del lavoro, il sistema di occupazione, metterò di nuovo in crisi e metterò in atto movimenti migratori, di sicuro movimenti migratori di tipo economico, io li chiamo volontari, adesso li chiamano migranti economici, tuttavia non mi sembra tanto bello sto migranti economici, ma insomma sono migrazioni volontarie perché uno sceglie di migliorare, se non lavoro cercherò da un'altra parte, se il mio salario o stipendio è così basso o minimo cercherò una chance da un'altra parte. Torniamo a Maria e Giuseppe su questo asinello, una bella immagine, che da tanta tenerezza anche nell'immaginare le difficoltà trovate in questo cammino, non volontario dicevamo, ma obbligato per legge, forzato. Torniamo invece a quello che sono i termini specifici delle diverse tipologie di migrazione, migrazioni che hanno sempre caratterizzato la nostra storia, anche di ciascuno di noi, in qualsiasi famiglia credo ci sia un aggancio, un ricordo, un qualcosa che rimandi al tema della migrazione. Certo, le migrazioni ci hanno riguardato da vicino, noi italiani è un dato di fatto, siamo gli irlandesi, siamo quelli che ha avuto più persone in termini assoluto all'estero di migranti, quindi è un dato di fatto, le nostre fino a 800, inizio a 900 erano essenzialmente migrazioni volontarie, scelte perché mancava lavoro, perché dovevi migliorare la tua situazione economica. Ad esempio, nella storia della mia famiglia, mio nonno, classe 1884, emigrò in Argentina perché avevano bisogno di terra da coltivare, non ce n'erano abbastanza, le langhe di quegli anni erano veramente le langhe della malora di Fenoglio, quindi le langhe della difficoltà, della miseria, non le langhe fortunate di adesso del Barolo, di Barbaresco o insomma del tartufo bianco d'alba o quant'altro. Ebbene, mio nonno partì tre anni in Argentina, ritornò in Italia pagando i debiti a mio bisnonno perché era andato giù a posto per fare soldi, come molti migranti che vengono qui, hanno bisogno di lavorare, far soldi e magari rispedirli o portarli nel loro paese di origine. Così fece mio nonno, tornò su col suo gruzzoletto, pagò i debiti a mio bisnonno, incontrò mia nonna, la sposò con l'intenzione di ritornare in Argentina perché allora l'Argentina era più ricca di noi, Italia, inizio del Novecento. Addirittura fece lo scherzetto a mia nonna di portarla in viaggio di nozze a Savona. Mia nonna non aveva mai visto il mare, come molti langhetti, noi delle visto lo sapevano, lo conoscevano direttamente. Mia nonna tanto si spaventò di Savona, del mare, del porto, dei bastimenti eccetera, che disse no no, io non lascio, non attraverso l'Atlantico di sicuro. Allora mio nonno dovette ricredersi e non partì più per l'Argentina, però la sua intenzione era di ritornare perché là in Argentina vedeva una situazione migliore di quella che era la langa di allora. La storia è andata così, purtroppo poi scopi la prima guerra mondiale e mio nonno viene chiamato sotto le armi e ritorna senza una gamba, mutilato, perché una pallotta lì colpì un arto e la storia della mia famiglia, di mia nonna, se io penso, mia nonna si sposò a 16 anni e a 20 anni si ritrovava già un marito senza una gamba. Eppure hanno fatto di tutto, la famiglia ha continuato, sono un po' ancora nati i figli, mio papà è del 28, quindi 1928 nasce ben dopo, però guardi che storia particolare. È stata una storia che le migrazioni ci hanno coinvolto. Ed è bello poter sottolineare questo aspetto, del quale forse si parla poco quando ci si approccia al tema delle migrazioni. La voglia comunque di tornare nella propria terra d'origine, migrazioni che non sono svolte per andare in un luogo e fermarsi lì stabilmente per tutta la vita. Il richiamo alle proprie radici, comunque alla propria casa era un fattore determinante? Certo, perché guardate, tutti gli studi dicono che chi migra, migra sempre con l'idea di poi ritornare a casa. In parte, sto parlando di migrazioni volontarie in questo caso, non di quelle forzate. Quelle volontarie c'è un progetto, io voglio migrare, ipotesi, voglio andare in Germania a lavorare o dove voglio andare, negli Stati Uniti, in Australia perché voglio migliorare la mia situazione economica. Magari ho un progetto di stare qualche anno, fare un gruzzoletto di soldi e ritornare. Il più delle volte poi il ritorno viene sempre più posticipato, a volte poi non si torna più, ma uno parte sempre con l'idea poi più delle volte di ritornare a casa perché le radici, inutile, non possiamo tagliarle, le radici poi prima o poi emergono, le radici prima o poi tornano a farsi sentire. Tuttavia la storia poi personale di ognuno ha diverse poi, come si dice, passaggi e quant'altro. Uno parte con l'idea di tornare, il più delle volte poi vuoi perché per il lavoro, ad esempio, una delle cose che si comincia a pensare, vabbè, aggiungo un anno e lavoro ancora un anno, il mio gruzzoletto aumenta, ipotesi. Oppure il ricongigimento familiare, mi sposo, i bambini, i bambini iniziano la scuola nel luogo in cui io sono emigrato e poi difficilmente poi ritorno. Quando il ricongiungimento familiare è un dato di fatto importante, quando il migrante si ricongiunge con figli, le mogli, la moglie e quant'altro vuol dire che il progetto migratorio ormai è definitivo, non è solo più un pensiero, ma diventa un progetto definitivo. Questo è quanto si studiano i sociologi, in geografia e quant'altro. Perché è così? Si parte in un modo, poi non è detto che le cose poi nel divenire cambiano, possono evolvere diversamente. Poi cambiare, di sicuro. In conclusione sarebbero tanti i temi da affrontare, richiamati appunto da questo tema. Anche se mi scusi gli italiani, ad esempio, all'estero. Noi siamo tornati ad emigrare, abbiamo 5 milioni, mi pare, di italiani residenti estero, iscritti all'Aira, anagrafi italiani residenti estero e stanno aumentando. Praticamente gli immigrati presenti in Italia, che sono poco più di 5 milioni, cioè l'8%, gli stranieri presenti in Italia, l'8% della popolazione residente, equivalgono gli italiani residenti estero, che sono sui 5 milioni. Un'altra Italia nel mondo. Che continua a emigrare, noi ne parliamo poco, ma abbiamo ancora italiani, soprattutto giovani, soprattutto diplomati e laureati, che lasciano l'Italia ed emigrano. E la cosa interessante, se uno va a cercare i luoghi di partenza, sono le regioni più ricche del nord da cui si parte. Lombardia è il primo posto di emigrazione di giovani. Noi diremmo proprio la Lombardia è pure sì. Non sempre si parte dalle regioni più povere, non è detto quello. Perché chi emigra in genere ha delle chance, ha dei buoni da spendere, dice io con le mie qualità, con le mie risorse gioco la carta e esco, di sicuro troverò qualcosa di migliore, una strada e quant'altro. Chiudiamo con il tema dell'accoglienza, dicevamo di queste porte che non sempre si aprono e Maria e Giuseppe, appunto, hanno dovuto vederne tante di porte chiuse. Ma l'accoglienza oggi è diventato un altro tema scottante. Certo. È sempre possibile accogliere tutti e comunque. Ecco, anche qui è un altro tema molto scottante e molto di attualità. Secondo me l'accoglienza è un dovere cristiano, lo sappiamo, già la scrittura ce lo ricorda, di chi accoglie il forestiero, di chi accoglie l'orfano, di chi accoglie la vedova. Però bisogna anche farlo bene. Secondo me bisogna accogliere in modo adeguato. Perché non è accoglienza sfruttare, ad esempio, le persone. Non stiamo facendo accoglienza nel momento in cui assumiamo magari un lavoratore stagionale e lo mettiamo a lavorare nelle nostre vigne. Io parlo di noi o in altre strutture con stipendi o meglio salari irrisibili. Questa non è accoglienza. Cioè l'accoglienza dobbiamo saperla fare bene e gestirla bene. Purtroppo abbiamo un po' l'idea che le migrazioni siano un fatto circoscritto. No, beh, succederà ma tra un anno, due o sei mesi finiranno. Non è vero. Ormai è una situazione strutturale. Aumenteranno sempre di più i profughi ambientali o i profughi dovuti a eventi di persecuzione, di guerra e quant'altro, se non li fermiamo. E lo dobbiamo prepararci con un'accoglienza seria, un'accoglienza ben fatta. Il tutti è un po' il modo di dire accogliamo tutti, ma nel senso di accogliamo bene e se diamo del lavoro, diamo del lavoro serio e giustamente retribuito. Doveri cristiani, ma sono deveri di buon senso per tutti. Non c'è bisogno di essere cristiano per far questo, no? Basterebbe un po' di buon senso. Perché poi ci ritorna, non solo in fatto di immagine, ma ci ritorna come società, come una società tranquilla, una società laboriosa dove c'è meno violenza, meno tensione sociale. Perché più c'è povertà, più aumenta la violenza, più aumenta la tensione sociale. È un dato di fatto. Non è che i poveri sono tutti santi, più siamo poveri più siamo santi, non è vero. Più aumenta la povertà e l'insicurezza, più aumenta la violenza. Lo vediamo purtroppo nelle nostre città, anche nelle nostre scuole. Per stato di necessità. Quindi direi accogliamo bene, in modo ben fatto, prepariamoci anche a programmare bene l'accoglienza. Non è solo noi, Italia, ovviamente. L'Europa dovrebbe anche in questo caso darsi una certa unità e ricordarsi che tutto assieme deve fronteciare il problema. Non solo noi o altri paesi, ma uno sforzo che deve essere comune. E con questo augurio, ecco, diciamo appunto della vastità dei temi richiamati in questo contesto, ma con l'augurio di un'accoglienza fatta col cuore, con criterio. E con buon senso. Certo. Con buon senso. Vogliamo, ecco, chiudere questa parentesi per proseguire in questa nostra notte così particolare. Buona vigilia di Natale al professor Moscone. Grazie. Speriamo di ritrovarci quanto prima per poter affrontare ancora meglio questi temi. Certo, il tema sarebbe bellissimo da affrontare. Io veramente, perché le tematiche sono moltissime e, secondo me, andare proprio a analizzare bene come si formano le migrazioni, le catene migratorie, sarebbe utile per capirle meglio e per gestirle meglio. Molti pregiudizi, secondo me, se uno studiasse bene la geografia delle migrazioni, scomparirebbero, perché purtroppo la nostra società vive anche di tanti pregiudizi. E di tanta ignoranza. E di tanta ignoranza. Grazie, professore. Grazie a lei, grazie a tutti. Allora, buone feste. Buona vigilia di Natale. Linea alla regia.